C'è chiaramente molta attesa, accompagnata da grande apprensione, per il primo incontro fissato alle 15.30 di oggi a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico fra istituzioni, aziende e sindacati sul tema degli annunciati esuberi in casa Varsida. 90 posti di lavoro tagliati, cancellati i reparti in ricerca e sviluppo e propulsion. Un nuovo dramma che giunge del tutto inaspettato nel panorama occupazionale triestino, già provato da tante situazioni di crisi e che minaccia di avere effetti collaterali nell'indotto di centinaia di occupati che vive grazie allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. La trattativa romana non sarà certo una passeggiata, anzi essa si profila a lunga e incerta e bisogna innanzitutto capire il livello di disponibilità dei finlandesi. Al tavolo romano siederanno da un lato i rappresentanti del Mise guidati da Giampiero Castano, la Regione col Vice Presidente Sergio Bolzonello, il Comune con l'assessore al lavoro Roberto Treu, nel mezzo ai sindacati Fim, Cisle, Fium e Wim, sul lato opposto i rappresentanti del gruppo Varsida. Dal canto suo la Regione è stata chiara, niente fondi in assenza di un piano industriale e senza garanzie sulla continuità dell'attività. Nelle stesse ore a Trieste sindacati lavoratori non se ne staranno chiusi nelle sedi o a casa ad attendere notizie da Roma, anzi alle 16 prenderà in via un presidio in Piazza Unità con collegamento telefonico diretto con i rappresentanti impegnati nell'incontro romano e in parallelo si svolgerà l'annunciato sciopero di tre ore e mezzo alla fine di ciascun turno, in serata quindi l'esito del primo round.